Spiti intanto, nella prefettura di Lodi, quella che era stata la sala operativa della prima zona rossa d'Italia si è trasformata in una centrale telefonica per malati covid. Il primo caso nel nostro paese l'assistenza è affidata a medici neolaureati che rispondono ai dubbi di chi per esempio fa fatica a contattare il medico di base e soprattutto cercano di alleggerire la pressione sui pronto soccorso che nel weekend nell'Odigiano ha avuto un picco di accessi a tempo.